Il treno è il mondo, noi siamo i sopravvissuti, senza di te l'umanità cesserà di esistere. Passeggeri, io appartengo alla testa, voi appartenete alla coda, rimanete al vostro posto. Lasciatelo stare! Sì, fermatemi! Non c'è più tempo, devi farlo adesso. Non è il momento. E quando sarà il momento? Presto. Gli armi sono scariche! Forza! Da qui, dritti fino in fondo. Prenderemo la locomotiva. E poi? Lo uccideremo. Non apritela. La locomotiva è eterna. La sua essenza è immortale. Sicuro che vuoi spingerti più avanti. Da 18 anni aspetto questo momento. Curtis, questo è il tuo destino. Attenzione! Snowpiercer, dal 27 febbraio al cinema.